Per chi vanta crediti con la pubblica amministrazione, stop alle cartelle Equitalia. Con il progetto Punto Zero stiamo difendendo il nostro ambiente, la nostra terra, la salute dei nostri figli. A Ragusa lo scorso anno i cittadini non hanno pagato la Tasi. 10 milioni di euro per la salute dei neonati. Finalmente tagliati i vitalizi e i doppi stipendi. No alla Tasi e a Equitalia e finalmente dopo 30 anni la verifica di coerenza per il piano urbanistico comunale. Questa norma ad esempio ha permesso la decadenza di Silvio Berlusconi. Le auto blu tolte alla cassa verranno assegnate alle forze dell'ordine. Ridotto di 1,5 milioni di euro lo stipendio ai dirigenti delle partecipate. Ottenuti maggiori risparmi per i cittadini e creati 340.000 posti di lavoro. L'ospitalità diffusa e orizzontale per borghi e cittadini.